Presentato questa mattina in conferenza stampa Art Hotel, un progetto ideato e organizzato da Confesercenti e Assotel di Fano con la collaborazione della Camera di Commercio, della Banca Carifano e il patrocinio del Comune, assessorato alla cultura. Di che si tratta lo chiediamo al presidente della Confesercenti, Pier Stefano Fiorelli. Si tratta di una mostra, chiamiamola itinerante, dove otto artisti, giovani artisti fanesi, presentano le loro opere in altrettante strutture alberghiere della nostra città, del nostro comune. Tanto per dire abbiamo questi otto artisti che presentano in quattro alberghi della città di Fano, tre a Torrette e uno a Marotta. Praticamente questi otto artisti sono tutti giovani, abbiamo fatto questa iniziativa proprio per far conoscere anche le qualità, non solo di ospitalità, non solo della nostra cortesia locale, non solo della nostra gastronomia, ma abbiamo approfittato proprio per dare un'immagine un po' diversa anche di quelle che sono le potenzialità culturali della nostra città. Le opere di questi artisti saranno presenti fino al 13 settembre in queste strutture e ogni mercoledì di tutta l'estate, ogni mercoledì ci sarà un programma dove l'artista sarà presente in queste strutture, dove espone le sue opere proprio per presentare tutte le sue interpretazioni e farle conoscere chiaramente non solo ai turisti che saranno presenti in quelle strutture o nella nostra città in quel periodo, ma è un modo per far conoscere anche ai fanesi stessi quelle che sono le nostre possibilità ricettive in questo momento e far conoscere anche i nostri albergatori.